Un'occasione per scoprire e vivere la cittadina di Comacchio in una veste nuova, arricchita di colori, suoni e un'atmosfera festante che coinvolge l'intera città e i suoi abitanti. Questo, secondo gli organizzatori, vuole essere il Carnevale sull'acqua di Comacchio. Un evento unico nel suo genere, ogni anno sempre più sorprendente, dichiara Maura Tomasi, vice sindaco di Comacchio e assessore a politica degli eventi turistici. Il Carnevale sull'acqua si terrà nelle giornate di domenica 4 e 11 febbraio. La festa inizia fin dal mattino, dalle 10.30, tra coriandoli e stelle filanti, con le sfilate in maschera dei bambini e delle bambine di tutte le scuole. Carla Carli, direttore della cooperativa Giro Giro Tondo, organizzatrice della Kermes, mette in evidenza come il Carnevale sull'acqua sia cresciuto negli anni, creando interesse e aspettative. I tre ponti faranno da palcoscenico e teatro della sfilata e da qui appunto inizierà la manifestazione, da dove parte la parata, delle originalissime e suggestive barche allegoriche.